ehi ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui sopra dell'altfunk per la parte 2 della mod di notte le gane sono uscite altre nuove sì ok ovviamente io non mi metterò a fare molte parti diciamo che ne farò questa che uscirà oggi proprio giovedì e poi domani uscirà la terza e ultima parte faremo tre canzoni dipende quanto durano se durano tipo 2 minuti ne faccio 4 o 5 invece durano di più ne faccio 3 quindi raga ovviamente la difficoltà sarà difficile però raga prima di iniziare un bel like iscrizione campanella e l'integra buona visione 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti